L'angresso, il Presidente della Repubblica. Un film straordinario, La Grande Prega di Maria Monicelli. Sono cent'anni dalla fine della guerra ed è importante poter raccontare come è stata vissuta la guerra da due persone che si sono trasformate quasi per caso in eroni, ma non voglio dire altro. Ringrazio il Professor Munga e la Delicolli per averci permesso di inserire nella festa del cinema questo film che in qualche modo celebra il centenario della Prima Guerra Mondiale e che come voi sapete a novembre terminerà. Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica Mattarella che è stato molto gentile a venire questa sera e sono onorato della sua presenza. Lo saluto e ringrazio anche il Presidente della Camera Onorevo Refico e tutti i cari di Stato Maggiore dell'esercito italiano qui presenti.